E durante le settimane estive sono purtroppo deceduti quattro sacerdoti. La vigilia di Ferragosto è mancato in seguito a un grave e malore Don Giovanni Sandri di 67 anni, parroco di San Benedetto e di San Carlo in città. Don Giovanni era una vocazione adulta ed era arrivato al sacerdozio nel 1991. Era anche molto impegnato negli organismi ecclesiali della pastorale sportiva e presidente dell'Opera dei Ricreatori. Il 19 agosto invece è deceduto Monsignor Natale Piazza. Arciprete Emerito di Medicina. Nato nel 1921, era prete dal 44, aveva prestato servizio come cappellano e poi abate all'abante fino al 57, quando giunse a Medicina come coadiutore prima e poi come parroco. Aveva rinunciato alla responsabilità pastorale già nel 1998. Il 22 agosto è mancato invece alla Casa del Clero Monsignor Antonio Mascagni, Arciprete Emerito di Pieve di Cento. Don Antonio aveva raggiunto un bel traguardo dei 94 anni. Era stato ordinato prete dal Cardinal Nasali Rocca e fu subito inviato come cappellano a Pieve. Dopo un periodo ad Alberone, tornò a Pieve di Cento nel 1964 come parroco, da dove si ritirò poi nel 2002 per motivi di età e di salute. E da ultimo invece nella mattinata del 9 settembre è morto Don Tarcisio Menarini, parroco emerito di Longara. Era ospite alla Casa del Clero dal 1995. Classe 1915, Don Tarcisio era prete dal 1939 e ha prestato servizio nelle parrocchie di Buonacompra e San Benedetto Val di Sambro. Dal 1959 al 1995 è stato parroco a Longara e dopo le dimissioni si è reso disponibile per aiutare la parrocchia di San Carlo fino al 2005.